Ciao a tutti, buona giornata, sono appena tornato da scuola e ho già iniziato a rispondere ad alcune delle mail che mi sono arrivati, alcuni messaggi sotto i video. C'è un piccolo problema, mi sto accorgendo che il canale cresce rapidamente e sempre più spesso mi arrivano richieste di nuove canzoni e va benissimo, ma fate conto che su 100 messaggi che arrivano, 30 sono su canzoni che ho già fatto. Il problema qual è? Faccio un esempio, stamattina ho ricevuto un messaggio che ho scritto Fabio fai Lino Italia, poi Fabio fai Lino La Gioia, fai la primavera di Vivaldi, fai la primavera di Sticis, la canzone di Shawn Mendes. C'è un problema, se tu scrivi semplicemente Inno alla Gioia, è chiaro che non mi trovi, è uno dei brani più importanti della storia, ci saranno 100.000 visite, 100.000 video con l'Inno alla Gioia, stesso per la primavera di Vivaldi, ancora di più per le canzoni moderne. Ripeto, Sticis di Shawn Mendes è una canzone che ha avuto un enorme, un enorme numero di visitatori, anche per chi ha fatto delle cover, l'unico modo per trovare i miei video è scrivere Fabio Vetro e poi il titolo della canzone che ti serve. qualsiasi essa sia. Se tu scrivi Fabio Vetro, Inno a Italia, mi trovi in un secondo. Fabio Vetro, Inno alla Gioia, un secondo. Fabio Vetro, la primavera, Fabio Vetro, Sticis, Fabio Vetro, quello che ti pare, è l'unico modo per trovarmi in un attimo. Scusate, dovevo dirvelo perché altrimenti un'enormità dei messaggi, io rispondo, guarda che l'ho già fatto. Ok ragazzi, ci vediamo dopo. Ciao!